La famiglia ti forma, ti segue, ti supporta. Valori ai quali non smetteremo mai di credere, come non smetteremo di credere in te. Entra anche tu nella nostra famiglia. Less, libertà e sicurezza, sempre. Non smetteremo estante in te. Noi le gusti oppure essere. Il mio carico è deciso che lo sia molto importante moltissimo. Grazie a tutti.